Buongiorno Ho potuto fare questo video per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questo disco Voglio partire da te Alfredo, grazie mille per le fotografie e per tutti i video che hai fatto in questi due anni Vincenzo Di Maria per la grafica E anche i due santoni della casetta studio, Cristian e Giovanni A cui va proprio l'abbraccio più grande perché ci hanno sopportato sia in Molise che in studio, veramente sono stati dei grandi E' veramente emozionante avere questo disco in mano perché sono compressi in questo cartonato due anni della nostra vita Due anni dove ci siamo veramente impegnati nel scrivere questi brani, registrarli E sono tante le persone che abbiamo incontrato e che abbiamo conosciuto durante la realizzazione di questo disco Voglio ringraziare le featuring che sono tante Oli degli Scendono che ha partecipato al brano Ar del Cuore Valero Iovini che ha partecipato al brano No Poi Chiara della Rossa che ha partecipato al brano I Remember E poi tutti gli amici che hanno partecipato ai cori Soprattutto a Paolo Rio degli Sciatum che ringrazio in modo particolare perché mi ha dato una mano Perché se vi ricordate il disco dovevo uscire un po' di tempo fa Ho avuto un po' di problemi alle corde vocali E lui è stato una delle persone che mi ha aiutato a rimettermi in carreggiata Veramente grazie Paolo Voglio ringraziare la Pivi che ci ha aiutato anche quest'anno E ci aiuterà per il tour che partirà per la promozione di questo disco Che ci continuare a supportare La Merck Un grazie veramente a Elera Cardellini Per tutto il supporto che ci ha dato Alla Ufip di Pistola E a tutti comunque la grande famiglia di RFC In questi 13 anni i musicisti che hanno suonato con noi Che se ne sono andati, che sono venuti Tutta la gente che ha portato i nostri furgoni Che ha venduto il nostro merchandising Un grazie veramente a tutti quanti A questo punto non mi resta che invitarvi tutti quanti Il 17 gennaio al Black Hat di Caserta Alla presentazione di questo disco L'ingresso è gratuito Quindi aspettiamo veramente che ci sia tutta la famiglia RFC al completo Tra il nostro pubblico e tutto il pubblico che ci ha supportato in questi anni E Caserta risponda al meglio a questo invito Noi dal primo febbraio saremo in tour Tour organizzato dalla Maninatto E con l'occasione per ringraziare Scardi, Mattia e tutta la famiglia Maninatto-Vallanzasca Niente Questo è il nostro nuovo album Invito ad acquistarlo A scaricarlo Vedete un po' voi Questa era la nostra musica Questi siamo noi E il 17 gennaio ci vediamo a Black Hat Grazie a tutti Veramente Questo è il nuovo album degli RFC Sono stato registrato No Non sono stato registrato E tu così ti vuoi far capire che hai ingresso No, è il cattivo che stanno con un Così Ripeto questa parte Tutta la frase Non mi tocca che invitarvi Non mi resta che non mi tocca Non mi tocca che nulla Che invitarvi tutti quanti L'ho ridipito un'altra volta Tutti quanti Il 17 gennaio al Black Hat di Caserta Per la presentazione del nuovo Nuovo Pazzo Il 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 Ragazzi Salve a tutti Volevo Scusami Non fa schifo Sì Siamo stati in morise E E In due anni in studio No Fa schifo Affreddo Ti giuro è l'ultimo, facciamo l'ultima La realizzazione dei testi Qualcuno bussa il citofono E che Mannaggia E la musica Se baghiamo piace il minuccio Benvenuti Voglio finalmente dirvi Vaffanculo